bella a tutti ragazzi sono fraxer e oggi siamo su un tutorial non l'avevo mai portato su un canale e oggi vedremo come superare la licenza di minecraft ci fa ci fa tornare indietro dobbiamo installare quest'app con con la smile cioè avete visto e la scarichiamo su aptoid io l'ho già fatto ragazzi fidatevi la scaricate facilmente clicchiamo su quest'app e andiamo su minecraft andiamo sul menu della patch crea fila pk modificato e poi andiamo a cliccare su apk senza verifica della licenza appunto ora ci farà tutta la roba ricostruisci l'app quindi ora farà tutto il processo ci vogliono 23 minuti ci vediamo appena finisce ok ragazzi abbiamo finito tra poco penso appunto è andato con successo e ora clicchiamo su vai al file e dobbiamo cliccare su disinstalla e installa ok e ci farà disinstallare minecraft e poi installare nuovamente ok ragazzi app installata andiamo su apri ok siamo su minecraft abbiamo fatto tutto sto processo facilissimo raga è veramente semplice da fare e come vedrete ora non c'è più il segnale guardate eccolo ora vi faccio vedere entro anche nel mondo qualsiasi cosa va crea nuovo crea nuovo mondo vado direttamente su crea così non faccio tutta la roba guardate e infatti guardate che bello ha funzionato ragazzi quindi ragazzi se il tutorial vi è piaciuto il mio primo tutorial spero sia andato bene comunque speriamo ora metto in pausa e nulla se vi è piaciuto lasciate un mi piace anche un commento e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao